Grazie a tutti. Magico! Bello ed elegante, completamente automatico e facilissimo da usare. Vediamo come. Come prima cosa controlla che non vi siano difetti esteriori. Rimuovi tutti gli imballi e sacchetti dai vari componenti e verifica che il kit di accessori sia completo, come elencato nel libro di istruzioni per l'uso, che ti consigliamo di leggere con cura e attenzione, partendo dalle norme di sicurezza. Controllato? Perfetto. L'hai messo su una superficie asciutta e lontana da fonti di calore? Hai collegato la spina alla presa di corrente? Fai attenzione e assicurati che la presa di casa tua sia provvista di messa a terra. Ecco, è acceso. Ok, incominciamo. Metti il pane nelle pinze? No, non devi spingere. Volo è un elettrodomestico Bugatti, design e tecnologia, ricordi? Effetto magico! Puoi scegliere il grado di tostatura da 1 a 6, secondo i tuoi gusti. La spia rossa indica che grado di tostatura hai scelto. Volo ti permette di scegliere anche il programma di tostatura. Sono 4 e la spia blu indica quale hai scelto. Tostatura normale, rappresentato dal pulsante GO. Defrost, per scongelare e tostare il pane. Ideale per te che ti dimentichi sempre di scongelarlo. Bagel, come nella migliore tradizione inglese e americana. Tostatura solo di un lato. Rehat, programma e grado di tostatura impostato automaticamente. Per riscaldare il pane che è stato tostato in precedenza, ma che vuoi gustare caldo. Bene, procediamo. Mi è venuto un certo appetito. Seleziona il grado di tostatura 4, ben cotto, ma all'inglese, croccante da un lato e morbido dall'altro. Esatto, programma Bagel. E adesso il tasto GO. Rilassati, volo fa tutto da solo e non sbaglia mai. Quando ha finito, ti avvisa. Sentito? Bellissimi. Volo di Bugatti, sapori di gran classe. Grazie. 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 Grazie.